Dicevo a proposito di cinema che proprio tra poco ci sarà la premiazione del mio festival che si dedica all'Africa, all'Asia e all'America Latina e il 99% dei film di questi registi parla di diritti umani. Io non ho avuto la fortuna di conoscere personalmente Ambrogio però ho cercato, ho seguito le sue vicende soprattutto ho visto i suoi film e vedendo i suoi film come collega mi rifiuto di credere che quest'uomo possa non essere giusto, possa aver commesso l'errore che gli viene imputato. Allora vedendo i suoi film e sentendo anche l'ultimo l'ultimo intervento mi è venuta in mente un'esperienza altrettanto dura quando ho girato i miei documentari nel carcere minorile del Guatemala e del Mozambico e ho assistito a ragazzi che venivano imprigionati per 4-5 anni per aver rubato una gallina o una papaya. E ho assistito alle madri che ogni sabato venivano portavano loro del cibo e piangevo insieme a loro, ho assistito alle assistenti sociali che tenevano di sostenere questi ragazzi perché non finissero davvero nella delinquenza. Quindi ho rivissuto un po' leggendo il libro, mi sono documentata col libro di Del Freo, Marco Del Freo e ho cercato di capire, non sono un esperto di legge ma tra queste righe mi è parso evidente che le accuse rivolte al nostro amico siano completamente ingiuste. Io sono pronta a unirmi a voi per lottare, per essere presente, per essere in qualche modo d'aiuto e mi fa una grande tristezza che se da un lato la giustizia di questi paesi lontani può trovare una giustificazione nella povertà estrema, da noi in Italia mi dispiace molto che non si sia in grado di amministrare bene la giustizia. Grazie.